ciao benvenute fanciulle e fanciulli andiamo in questo video a vedere le previsioni per la settimana dal 6 al 12 novembre 2023 ma non prima di aver acceso una meravigliosa candela ava e mei quindi è ufficialmente iniziato l'autunno io passerò trascorrerò le mie serate sul mio divano sotto la mia copertina con la candela accesa che fa un'atmosfera e un profumo in casa meravigliosi i colori poi autunnali di queste candele si apprestano benissimo all'arredamento di casa no ci stanno proprio ci stanno proprio da dio con questi tocchi arancione rosso marrone ocra un po quella quindi colori caldi ok che insieme al calore delle candele e a questi profumi meravigliosi daranno un aspetto meraviglioso io non vi ho detto il mio arredamento ormai ave mei ne fa parte allora andiamo ad aprire subito le candele qui ci parlano ovviamente no di mondo ormai l'abbiamo conosciute qui c'è la spagna con barcellona e l'altra candela che ci porta invece in marocco a marrakesh cioè allora insomma partiamo da marrakesh che ne dite poi guardate il packaging cioè questi cartoni questo packaging c'è anche un delitto buttarle io io tengo anche le scatole tanto che mi piacciono e poi guardate no via guardate come sono ok meravigliose sentiamo non ve lo so l'odore non lo so spiegare il profumo non lo so però guarda è una cosa meravigliosa io ci vado matta colori bellissimi ora questo sul mobile mi dite voi come ci sta ci sta da 10 non solo come soprammobile ma quando poi uno ha finito la candela cosa che poi faccio io cioè questo è un contenitore che non va buttato da questo si mette sotto ovviamente no per non macchiare il mobile ok quindi già questo meraviglioso ma non si butta via si può riutilizzare anche un piccolo vasino per una piccola piantina dei fiori ma anche avendo il coperchio non so il sale il pepe la farina andiamo a vedere barcellona la spagna mamma che bellezza io ormai sono una fan di aver mai penso si sia capito no ora voglio dire barcellona spagna cioè questi sono veramente pezzi guarda che colori proprio autunnali sono pezzi proprio d'arredamento cioè qui dentro idem quando è finito la candela cioè qui ci metti dentro di tutto anche 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 guarda banalmente anche un salvadanaio per buttarci dentro gli spicciolini voglio dire no è meravigliosa 9 questo ha un profumo mi ricorda un profumo di mia mamma guarda guarda cosa arrivo a dirvi non importa sono dei profumi meravigliosi guarda come sono questo è un delitto buttare via una cosa del genere ovviamente vetro ok vetro quindi come vi ho detto no qui ci sta la farina da tenere in cucina ma qualsiasi altra qualsiasi altro oggetto il tappo è ovviamente di legno è qui non c'è plastica quindi già la cosa mi piace ok a questo punto veniamo a noi allora ave me è stata così gentile da proporre anche una promozione per voi per tutte voi fanciulle fanciulli che seguite il mio il mio canale e vi propone con il codice penelope app che vi lascio qui dovrebbe apparire ora in sovrimpressione se andate dal link che vi lascio giù nella descrizione di questo video vi da il 50 per cento di sconto senza una spesa minima se poi al carrello aggiunge un minimo di 99 euro che poi dovrà essere scontato del 50 per cento quindi te effettivamente tu ne spenderai 50 ok avrai anche due prodotti gratis in misura standard a tua scelta ok ma ti lascio il link per andare sul sito qui giù nella descrizione del del video ricordati però che questo codice sconto sarà valido per due settimane ti lascio tutto giù nella descrizione di questo video vediamo la settimana per te caro quarzo rosa andiamo a vedere partiamo dagli oracoli dell'amore ti lascio il link giù in descrizione se vuoi avere questo mazzo di carte dal 6 al 12 novembre 2023 per il quarzo ok il calcolo il calcolo e la fine ma guarda qui letteralmente fa e il corteggiamento che c'era nel taglio ma allora qui letteralmente ci può essere una chiusura una fine una conclusione di un qualche tipo dopo un'analisi cioè qui magari si sta riflettendo si sta valutando calcolando in questo senso va bene le mosse da fare in una determinata situazione che potrebbe portare appunto alla sua fine il mettere un punto letteralmente su su una situazione quindi non una fine una chiusura di un interruzione di una situazione così perché ci viene meglio quel giorno ma calcolata voluta analizzata e pensata ok di qualsiasi tipo di situazione si parli ovviamente nel taglio c'è il corteggiamento quindi potrebbero effettivamente parlarci di una situazione che può riguardare quest'altra persona uomo o donna che sia oppure letteralmente ci potrebbero anche dire oltre a quello che ti ho detto ci potrebbero anche dire che questo corteggiamento è stato sospeso come dire c'è una persona che magari ci stava dietro ci corteggiava era carina con noi ci diceva tante belle cose fucci fucci miau miau e poi invece a sparisce non si fa più vivo non si fa più sentire questa persona va bene ma ora andiamo per andiamo per gradi vediamo anche gli oracoli questi altri cosa dicono allora coloro che hanno scelto il quarzo rosa vediamo un po il numero 27 la sua mente aperta e sei tollerante e compassionevole verso tutte le forme di vita insomma tu hai a cuore la libertà di espressione e vuoi migliorare le condizioni delle persone che siano esse nella sua comunità nel tuo paese o addirittura nel mondo quindi qui c'è una mente assolutamente assolutamente aperta poi c'è ancora il numero 11 l'intuizione sicuramente sei assolutamente al godi diciamo di una forte intuizione che ti fa capire anche il non detto ok il non detto e il numero 88 sto bene quindi sicuramente qui c'è prosperità e c'è abbondanza anche proprio spirituale sicuramente troverai numerose opportunità per arrivare laddove vuoi per arrivare al successo sia materiale appunto che proprio economico quindi denaro detta proprio in soldoni esattamente mi veniva da mi veniva da dire comunque quarzo rosa andiamo a vedere anche i tarocchi ma poi dovrò tirare anche gli oracoli dell'amore vediamo i tarocchi cos'hanno da dire per la tua settimana ti ricordo che ho pubblicato l'oroscopo del mese di novembre per tutti i segni zodiacali dall'ariete ai pesci lo trovi sul canale quindi cercalo va bene per tutto il mese quindi ti può senz'altro aiutare allora vediamo dal 6 al 12 novembre per coloro che hanno scelto il quarzo rosa cosa accadrà a queste persone dal 6 al 12 di novembre la settimana di coloro che hanno scelto il quarzo rosa prima carta è calala il 2 di coppe e direi che qui il tema del corteggiamento insomma voglio dire io ci va proprio ci va proprio a nozze ci siamo proprio va bene 2 di coppe cos'altro per il quarzo rosa il nove di coppe dal 6 al 12 di novembre l'otto di coppe tutte opere a quarzo rosa media il cavaliere di denari e qui non entro più ma mettiamole così cavaliere di denari e il quattro di coppe è uscito un po non si sa se così o se cosa vabbè mettiamolo un po così ne ferro conto nel taglio il 6 di denari bello ma guarda qui c'è un po e esattamente qui c'è un po e un po nel senso che abbiamo visto qui no da questo corteggiamento che ci potrebbe essere la fine di questo corteggiamento nel senso comunque di questa di questo cercarti di questo nei tarocchi qui mi fanno vedere un po voglio di la stessa ossa però fanno vedere senz'altro come dire una situazione che ha dato molta gioia molta felicità molta soddisfazione che va un po in a sfumare che va un po a sfumare salvo poi però ripresentarsi vi spiego meglio qui ci potrebbe essere una persona o magari più d'una e per l'amor di dio che puff sparisce c'è tanto era presente tanto era carina questa persona uomo donna che sia tanto era presente tanto si proponeva tanto che tanto la tanto qua che poi puff alla fine senza un motivo apparente si sfila via sfuma via sa quelle persone vanno a vanno a sparire però poi dopo vi fanno vedere nuovamente la la novità fammi vedere ora vedremo anche con gli oracoli dell'amore lo sanno da dire però vedi il tre e il quattro ok vedi la regina di coppia e di denari capovolto allora qui c'è sicuramente una situazione di una persona molto carina molto disponibile molto dolce molto quella maniera lì ok molto dov'era questa molto tollerante compassionevole verso tutti una figura femminile ok la figura maschile invece e qui mi fanno vedere un po tutte le carte è una persona un pochino più tirchia un pochino più avara di sentimenti di effusioni di dolcezze o almeno non è detto sia così di natura o verso di voi sempre durante questa settimana magari sarà un pochino più capito un pochino più fredda sta persona un pochino più distaccata un pochino più dura anche se vuoi nei vostri nei vostri confronti io vedo vedo questo quello che vedo è che non sarà una cosa definitiva quindi non abbiate paura non temete perché insomma non è una cosa una cosa definitiva non lo credo proprio vediamo anche gli oracoli dell'amore cosa hanno da aggiungere a questo quadro poi vediamo i segni zodiacali ti rivuole indietro vedi e arrivano le risposte che cercavi quindi qui c'è una persona che potrebbe scomparire nel senso sfilarsi via da una situazione d'amore e non però poi potrebbe riapparire quindi un po' questo no come si dice bastone la rosa quarzo rosa forte innamoramento specialmente da parte della donna mi viene da dire ok quindi qui c'è una situazione che ti prende il cuore non vuole vederti con un'altra persona quindi magari una persona che va e viene che si fa un po' desiderare che però se ti vede con un'altra persona gli parte l'embolo cioè non lo sopporta vedi vorrebbe che tu tornassi quindi qui una persona durante questa settimana sa di avere sbagliato vedi una persona in amore e non lo dico un'altra volta ok che si è comportato un pochino in quella maniera lì che si comporta un pochino in quella maniera lì ma esatto ma si ripropone qui c'è proprio no un un riproporsi però ecco mi viene da aggiungere fate attenzione che questa è una persona che calcola molto quello che fa è io non vorrei ci fosse un secondo fine ora non so la situazione personale di ognuno di voi andrebbe vista ma qui c'è un calcolo sotto quindi qui c'è una persona e tutto quello che fa gioca scacchi ok quindi non fa le cose così ok comunque detto questo voglio vedere anche i segni zodiacali con cui avrai a che fare magari tu capisci un po anche di che cosa ti stanno parlando di quale situazione va bene che qui all'inizio c'è una gran gioia una gran soddisfazione un gran divertimento e poi c'è un po questo tirarsi indietro allora il segno dei gemelli sicuramente poi leone come vedete guardavo il leone si abbiamo detto leone con qua con quale segni zodiacali avrà a che fare il quarzo rosa lo scorpione i pesci gemelli leone scorpione pesci sagittario con quali segni avrà a che fare durante la settimana il quarzo rosa i segni coinvolti vediamo un po guardatevi l'oroscopo di novembre e mi raccomando la riete il leone viene confermato il capricorno l'acquario il capricorno viene confermato prendiamo solo questa ovviamente la bilancia e il sagittario che avevamo già visto bilancia acquari a riete pesci sagittario capricorno scorpione gemelli leone ok fammi sapere un pochino quarzo rosa di chi di cosa ti hanno parlato queste carte e ricordati di guardarti l'oroscopo del mese di novembre per il tuo segno zodiacale e per il tuo ascendente mi raccomando va bene andiamo a vedere adesso gli altri mazzetti andiamo eccoci alla settimana dell'amethista ok andiamo a vedere cara amethista la sua settimana dal 6 al 12 di novembre partiamo dagli oracoli volume 3 ti lascio qui il link se vuoi avere questo mazzo di carte che come vedi ho creato io allora ricordati di guardare anche l'oroscopo del mese di novembre 2023 per tutti i segni zodiacali l'ho già pubblicato sul canale quindi vai guardati novembre per il tuo segno zodiacale e per il tuo ascendente dal 6 al 12 di novembre per l'amethista casa come prima carta e emozione belle emozione casa allora è nel taglio la fortuna cioè tanto che non farsi manca nulla voglio dire io quindi belle belle arte ma guarda qui la prima cosa che mi mi viene a dire sicuramente durante questa settimana ok passeremo dei momenti belli emozionanti molto affettuosi mi viene da dire perché qui vedo molto affetto molto amore in queste carte va bene quindi sicuramente dei momenti belli in famiglia con qualche familiare con degli amici cari amici nel senso proprio ecco di lunga data importanti fra virgolette va bene dei momenti con la nostra famiglia dei momenti in casa sai quando uno proprio sta bene no e via dicendo ora qui ci potrebbe essere anche perché io bisogna te lo dica ecco la notizia magari non sei tu ma è un parente un amico caro eccetera la notizia non so di un matrimonio magari anche di una gravidanza da quello che vedo ok da queste carte la notizia di una gravidanza di un matrimonio di una convivenza eccetera capito ecco un'emozione grande una forte emozione a che riguarda te e comunque la sua famiglia o il tuo entourage emotivo persone a te molto vicine andiamo a vedere cos'altro dal 6 ok i and support e quindi o del supporto quindi di nuovo si ritorna alla famiglia comunque agli affetti agli amici molto cari quindi persone intorno gente che ti sta vicino che ti vuole bene ecco ti vedo circondato da amore e i am connected qui c'è proprio il la comunicazione la connessione ci fanno vedere già il simbolo il segno dei gemelli quindi quando andremo poi a vedere con quali segni zodiacali tu avrai a che fare durante la settimana ricordiamoci che i gemelli sicuramente ne fanno parte va bene lo mettiamo qui anche il segno dei dei gemelli vediamo se ci vogliono dare un'altra carta mentre passiamo ai farocchi addirittura due o mamma e carte ok qui c'è la festa alla celebrazione da un qualche cosa quindi la gioia la contentezza la felicità magari una festa il celebrare qualcosa guarda e visto prima sono detto qui c'è un qualcosa una qualche notizia e che arriva in famiglia ad amici cari effettivamente qui c'è la conoscenza il conoscenza il venire a sapere qualcosa guarda il venire a sapere un qualche cosa il segno dei del sagittario e qui c'è il leone i am authentic quindi già ci hanno parlato anche di tre segni zodiacali leone sagittario e gemelli qui c'è un qualcosa che arriva un qualcosa che noi non ci aspettiamo non ci aspettiamo e che vedremo comunque a sapere che vivremo anche mi viene da dire oltre a questo guarda qui vedo anche lo studio quindi magari tu stai studiando stai preparando con qualcosa un corso magari per il tuo lavoro va bene guarda il bagatto come prima carta il bagatto lo no sì lotto di spade il 4 di denari il 10 di denari infatti e il 7 di spade nel taglio qui c'è anche la la papessa guarda allora qui il lavoro il lavoro inteso proprio come un qualcosa anche che tu devi fare non è detto si parli solo di lavoro nel vero senso da andare in ufficio da andare a faccio si può trattare di un qualcosa che tu devi fare per esempio se tu sono studente lavoro in quel senso lo studio magari un esame che tu potresti superare alla grande anche se ti dà molto nervosismo ovviamente comunque non importa qui molto si ritorna alla casa casa famiglia famiglia casa familiari e via dicendo quindi qui ci sono dei lavori da fare in casa magari acquistare un immobile o comunque doverlo ristrutturare perché fanno vedere anche questo le carte ristrutturare un qualche cosa guarda devo dire la verità c'è un qualcosa qui che non ti sconfinfera cioè qui ci sono delle critiche delle accuse da parte di qualcuno a qualcun altro volevo capire se tu se 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 tu se te che tu critichi qualcuno o se è questo qualcuno che critica te comunque fatto sta che qui c'è un qualche cosa che non ti sconfinfera che non torna però che riguarda che riguarda la casa o comunque la 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 famiglia però qui fanno vedere anche onestamente parlando vedi qui ci sono delle carte molto molto belle quindi emotivamente parlando una settimana assolutamente positiva ma no sto guardando non è detto infatti che si parli della stessa cosa dello stesso argomento è vero che qui molto mi ritornano sulla casa qui mi fanno vedere la casa vediamo gli oracoli dell'amore capito però mi parlano anche di di altro di lavoro di cose pratiche che dovete fare vediamo ti lascio il link giù nella descrizione per queste carte vediamo gli oracoli dell'amore per l'ammetista dal 6 al 12 di novembre grandi cambiamenti in vista eccola la vedi grandi cambiamenti in vista cosa altro per l'ammetista comunque si vede a leggerti un libro o studiare preparare un qualche cosa ti voglio qualcosa non è piaciuta vedi quindi qui c'è un qualcosa qualcuno che ti accusa di un qualche cosa un piccolo litigio certamente sì voi due starete insieme un giorno ok quindi magari c'è un qualcosa qualche alto e basso con con qualcuno vedi qualcosa non è piaciuta però qui c'è come questo recupero di una situazione andiamo a vedere i segni zodiacali mi raccomando ricordati di guardare il l'oroscopo di novembre per il segno zodiacale quello può senz'altro aiutarti io continuo a vederci un immobile che una casa allora avrei a che fare con il leone e ce l'avevamo detto avevamo già belle che detto quindi ce lo viene il cielo ce lo confermano cos'altro ametista i gemelli lo scorpione il toro cos'altro no il leone di nuovo quindi per la terza volta la vergine i gemelli ah avevamo già visti gemelli l'ariete l'acquario cos'altro per l'ametista ok e i gemelli di nuovo quattro volte sti gemelli allora gemelli ma avevamo già visto no vi ricordate i gemelli abbiamo detto il leone e il sagittario gemelli leone sagittario ok questo togliamo scorpione toro vergine ariete acquario questi segni più evidenti poi quello che ti deve far fede è ovviamente la la stesa di carte quindi una settimana dicevamo un po di alte e bassi qui c'è una notizia sicuramente felice ci farà tanto piacere ovviamente un qualcosa da festeggiare quindi o proprio questa notizia bellissima che ti farà esultare ti darà tanta gioia semplicemente anche un partecipare ad una festa un compleanno fare un'uscita insomma eccetera qui c'è un qualcosa che gira dei grandi cambiamenti in vista ok dei grandi cambiamenti in vista però c'è anche è normale che sia la vita equista c'è anche un qualcosina con qualcuno quindi diciamo un qualcosa da ridire con qualcuno va ecco mettiamola mettiamola così però insomma io ti voglio pensare così questa settimana ecco poi tu ci farai sapere va bene ametista andiamo a vedere l'altro mazzetto andiamo ciao avventurina verde andiamo a vedere per te la settimana dal 6 al 12 ti lascio i link per avere queste mie carte trovi tutto giù nella descrizione del video partiamo dagli oracoli volume 3 prima carta all'audacia quindi qui ci si butta qui azzardiamo azzardiamo qualcosa saremo audaci diciamo va bene l'audacia cos'altro avventurina verde ricordati di guardare l'oroscopo del mese di novembre che ho pubblicato già per tutti i segni zodiacali quindi guardalo per il tuo segno e per il tuo ascendente l'ansia e il denaro allora qui letteralmente magari vorremmo azzardare vorremmo fare qualche cosa una spesa un lavoro e ne so io insomma ok vorremmo fare un qualcosa ma abbiamo paura di non riuscire economicamente economicamente parlando va bene ma ancora qui ci può arrivare notizia diciamo così di un qualcosa che ci mette in ansia che riguarda che riguarda il il denaro i soldi ma sicuramente lo capiremo molto anche dalle prossime carte vediamo per l'avventurina verde vediamo anche gli oracoli gli altri oracoli vediamo dal 6 al 12 dal 6 al 12 qui magari c'è un qualcosa che tu vorresti fare però tu c'è anche un po paura c'è un posto buttarsi e un po tirare indietro comunque un qualcosa in cui tutti i butti tutti sei lanciato però bene o male c'è qualcosa a qualcuno che ti tira indietro che ti ferma vediamo avventurina verde ok il numero 17 l'indipendenza peri magari qui è proprio il desiderio di essere indipendente di sganciarsi da qualcuno comunque la qualità del lavoro che puoi che puoi produrre quando sei da solo quindi che tu lo fai indipendente per conto tuo ok è incredibile tanto sei indipendente quanto ambizioso e capace di fare cioè qui veramente c'è una persona cioè t molto molto capace ma quanto più sei solo indipendente che tu ti lasciano libero di fare insomma come meglio credi tanto più tu rendi in poche parole vediamo la curiosità eccola la vediamone voglio si dare ancora la curiosità ok I'm open to receive ecco quindi qui c'è la via qui tutto mi parla da audacia guarda e l'abbondanza quindi qui si ritorna al denaro vedi che c'è qui comunque io vedo del denaro in arrivo e qui sicuramente ma anche il segno del toro ricordati quindi con un toro tu avrai a che fare quindi comunque anche del denaro in arrivo e magari tu ambisci proprio a quello tu punti proprio a quello qui ci sono anche dei denari che stiamo aspettando e si sta aspettando una notizia che riguarda dei soldi del denaro vedi che devi ricevere dei soldi e la curiosità nel senso qui si aspetta vedi delle notizie che riguardano questi soldi guardano e parlano ste carte vanno all'unisono vediamo con i tarocchi cos'hanno da cos'hanno da dire ok allora avventurina verde dal 6 al 12 di novembre bella il 3 di coppe la forza 3 di coppe forza il 10 di spade che però è uscito capovolto ok avventurina verde il 7 di bastoni e il carro bene molto 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 bene ma allora guarda qui letteralmente tutto asciughi delle lacrime qui c'è una situazione che sia economica perché ci fanno vedere questo denaro comunque pratica quindi di un qualcosa di pratico di un qualche tipo guardi qui addirittura c'è la stella sotto il mazzo altra carta molto 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 bella e noi la mettiamo qua ok quindi qui molto molto bella allora situazione poi con il 3 di coppe figurati va bene quindi qui c'è una ripresa di un qualche tipo ci si rialza in piedi c'è un qualcosa che va a migliorare che va a progredire forse proprio vedi questi soldi che ti arrivano in mano magari tu stai aspettando qualcosa stavi aspettando una risposta riguardo a del denaro ok qui arriva che sia la risposta appunto un qualcosa che riguarda questi soldi o che siano proprio i denari nel vero senso della parola qui c'è proprio un superare un progredire una situazione forse proprio questo discorso economico o comunque pratico che ti può aiutare ad arrivare a questa indipendenza ok magari ti aspetti questi soldi appunto per comprare a casa per andare a vivere da sempre che ne so io insomma questo lo sapete lo sapete senz'altro meglio voi di me ognuno di voi avrà la propria vita le proprie situazioni ok quello che mi preme dirvi comunicarvi farvi passare è che qui arriva proprio la la soluzione non so come meglio dire il progresso il progredire il superamento di una situazione qui si supera un qualche cosa e si arriva al suo compimento alla sua realizzazione una situazione che a quanto pare ti ha fatto anche un poenino soffrire dalle carte che vedo però qui c'è il 3 di coppe oltre a tutto il resto guarda posso guardare anche la prima e l'ultima cioè 3 di coppe carro e tanta roba ascolta qui c'è il superamento c'è il riuscire in qualche cosa del denaro che sicuramente arriva perché no qui ci posso vedere anche una passione che vivrete però qui c'è un appuntamento ecco quindi non è un qualcosa di nuovo che ti fiove dal cielo quindi magari già in questo momento tu hai questa cosa insomma ecco non c'è tutta sta novità la novità che vedo è quella che ti ho detto ma vediamo anche gli oracoli dell'amore vediamo cosa hanno da dire che non parlano solo d'amore vediamo eh per l'avventurina verde la settimana dell'avventurina verde ti amo quindi magari qualcuno potrebbe assolutamente dirvelo e abbiamo visto infatti no che c'è questo appuntamento questo incontro passionale questa comunicazione ok siete l'uno nei pensieri dell'altro infatti la comunicazione c'è quindi una comunicazione molto importante che ti arriva anche dal punto di vista lì non vuol lasciare andare quindi qualcuno che magari si era distaccato potrebbe assolutamente farsi farsi vivo ok avventurina verde allora che succede stavano avventurina verde dal 6 al 12 un monte guarda denaro in entrata quindi senz'altro si sposa con questa quindi qui magari stai aspettando questi soldi e sicuramente arriveranno che arrivino dal lavoro che arrivino da altro non ci interessa va bene voglio tutto qualcuno ha una cotta per te e desidera intimità fisica con te e abbiamo visto anche l'incontro passionale eccola che ci viene confermato ok quindi avventurina verde una settimana assolutamente bella vediamo anche i segni zodiacali con quali segni zodiacali avrà a che fare l'avventurina verde allora il toro l'abbiamo sicuramente visto ci aggiungiamo l'ariete il toro l'ariete con quali segni zodiacali avrà a che fare il la bilancia il toro viene confermato subito ok il cancro i pesci toro bilancia riete cancro pesci questo no questo nemmeno cancro viene viene confermato con quali segni zodiacali avrà a che fare l'avventurina guarda una settimana molto positiva sia dal punto di vista economico finanziario insomma del denaro che arriva sia per quanto riguarda l'amore il leone o comunque le cose tue pratiche va bene gli affetti questo niente i gemelli i gemelli la vergine gemelli vengono riconfermati ne tiro un altro poi mi fermo avventurina verde ricordati di guardare l'oroscopo di novembre che ne vale la pena il capricorno per il tuo segno e per il tuo ascendente oltre che per la tua luna se lo conosci aggiungiamo il il sagittario va bene questi sono un po' i segni zodiacali ma quello che ti deve far fede è la stesa è lì che ti ci devi ritrovare e poi guardati anche gli altri due mazzetti perché a volte succede che non è detto tu scelga il mazzetto proprio più consono a te alla tua vita quindi dai uno sguardo anche agli altri due se vuoi va bene io vi ringrazio per avermi seguito fin qua per l'affetto di cui mi inondate ogni volta che è contraccambiato da parte mia ovviamente e vi aspetto qui come sempre al prossimo video ciao ciao